hotel resort villa danilo in un luogo da sogno per la vacanza dei sogni dalle camere al ristorante dal centro benessere alla piscina tutto è stato pensato per rendere davvero indimenticabile la tua vacanza a gamberale nel parco nazionale della magliella benvenuto a pescara siamo a pizzo ferrato chiaramente nel ritiro del pescara le prime sensazioni di questi di questo assaggio biancazzurro per te ciao sono molto felice di essere arrivato una grande piazza come il pescara ciò che posso dire dire di questi giorni che sono stato qui che ho ritrovato un bellissimo gruppo un gruppo molto unito molto professionale che secondo me ha tanta voglia di dimostrare che quest'anno possiamo fare una grande stagione a proposito del gruppo con chi dei nuovi compagni è legato in questi primi giorni dice qualche aneddota un po curioso del ritiro se si può sì legato con tutti bisogna fare amicizie con tutti poi come sono un po metà servo legato tanto con con dario con urosic quindi con tutti non c'è problemi con nessuno l'anno scorso una stagione positiva nella primavera della roma condita da tre gol sei un difensore con il vizio del della rete insomma sì sì diciamo ho fatto in tutta stagione non tre ma sono stati sei gol mi sono ritrovato molto bene a roma voglio tanto ringraziare la società mister de rossi e tutto lo staff tecnico per quei tre anni bellissimi passati a roma oggi sono a pescare a voglio tutti i golf falli falli qui descrivi un po le tue caratteristiche tifosi biancazzurri magari non ti hanno ancora visto all'opera lascio dimostrare in campo io non sono che dici come sono lavoro ogni giorno per essere sempre più meglio per per crescere per arrivare sabato domenica la partita di mettermi in condizione per aiutarmi la squadra e vincere portare a casa i tre punti concludiamo mister de rossi e mister baloni ci sono delle analogie oppure no non mi piace fare le differenze tra uno e l'altro io lavoro con tutti bene rispetto ogni attore alla sua idea di calcio importante lavorare ascoltare i consigli di o di qualsiasi allenatore hotel resort villa danilo in un luogo da sogno per la vacanza dei sogni dalle camere al ristorante dal centro benessere alla piscina tutto è stato pensato per rendere davvero indimenticabile la tua vacanza a gamberale nel parco nazionale della magliella grazie a tutti